Il PD Veneziano chiede all'amministrazione di accelerare i tempi sul promesso restauro del teatro del Parco della Bissuola. A giugno l'assessore Zaccariotto ha fatto un incontro in commissione di municipalità dicendo che ancora a febbraio dello scorso anno è stato presentato un progetto. Ad oggi questo progetto non è stato reso pubblico, aspettiamo che venga presentato e che si faccia presto. Nel frattempo però ovviamente avendo tolto i servizi dell'anagrafe, avendo tolto i servizi del centro civico purtroppo ci sono atti di vandalismo continui che le associazioni lamentano. Per la riapertura dello storico teatro chiuso ormai da oltre un decennio la giunta comunale ha stanziato 600 mila euro che dovrebbero comprendere. Oltre al restauro la certificazione di prevenzione incendi, la giunta delle poltrone per il pubblico oggi mancanti e l'inserimento di una scenografia adeguata alle future attività. Noi chiediamo non soltanto che si faccia presto ma che venga fatto un progetto di utilizzo del parco e del teatro di concerto con il settore cultura, con la municipalità e con le associazioni.